Oh mamma, non devi fare male alla gente, lo sai. C'è i pu che stanno cercando un nuovo saxofonista e allora fanno il provino e al provino si presenta Giorgio Ormani e allora è il saxofono e mi fa chiretti e gli dice mi spiace Giorgio Ormani ma tu non hai stoffa. C'è la Telecom che sta promuovendo una nuova tariffa per i suoi clienti e allora inizia a telefonare a tutti. A un certo punto telefona Luciano Moggi e gli fa ciao Luciano Moggi, senti sono la Telecom, ti interesserebbe telefonare gratis a tutti i tuoi amici nelle ore serali? Eh ma Telecom, io il telefono lo uso poco. C'è Zidane, c'è Zidane che va nel saluniere? E mi fa ciao sono un niente, ciao Zidane, cosa vuoi? Eh volevo due ettini crudo, va bene, va bene. Vuoi qualcos'altro? Sì prendo la coppa. Oh!